E' iniziato questo gioco qua. Ma quel gioco là, in una crisi di quella situazione, di quelle proporzioni, perché probabilmente noi non ci rendiamo conto cosa è stata la fine del comunismo nell'Europa dell'Est, altro che la crisi del 29, ma è stata una cosa, una catastrofe, senza giustificare, mi sembra di aver dato bene l'idea che non ho simpatia per quei regimi, ma si è portato dietro una crisi epocale. E' in questa roba qua, sono intervenuti con un cinismo micidiale, altro che antropologico. Slobodan Milosevic, per chi non lo sapesse, era il segretario generale del Partito Comunista. Non era uno qualunque, non era un nazionalista, no no, è che a quel punto ho finito tutto e passato dall'altra parte. Questo era Milosevic e Tudjman, generale dell'Armata Rossa, Stella Rossa. Questi erano, si sono riciclati all'ultimo momento. Ma questo non solo là, pensate a Putin, pensate in Albania Berisha. Berisha, non so se voi sapete, era il medico personale di Enveroggia. Il medico personale di Enveroggia. Di colpo si scopre nazionalista, anticomunista, questi sono, e questo che è successo. Un riciclaggio, e qua arriviamo a un altro elemento fondamentale che deve essere capito, perché questa è una novità. Ma se fino adesso abbiamo letto la storia, abbiamo visto quanto ci riguarda, perché ci riguarda l'imperialismo italiano, ci riguarda gli imperialismi europei, ci riguarda il comunismo, come vedete stiamo parlando di cose che non è che non hanno a che fare con noi. Ma poi negli anni 90 l'implosione della Jugoslavia, come l'implosione dell'Unione Sovietica, l'implosione della Romania, non è l'unica, guardate l'Ucraina oggi, eccetera, produce un conflitto terrificante. Un conflitto, e questa è una novità, e questo ecco perché diventa presente e anche futuro. Se fino adesso abbiamo guardato il passato, diventa presente e futuro. In che senso? Sono le nuove guerre queste. Quelle che sono state definite le nuove guerre. Le guerre non più tra stati, ma guerre all'interno degli stati, prodotte dall'implosione o dal fallimento degli stati. Iraq e Siria insegnano oggi. È quello che è successo. Dove bande paramilitari, criminali, sostenute, certo, in quel caso da Milosevic da una parte, Tugman dall'altra, hanno scatenato una guerra contro i civili. Qualcuno parlava della guerra civile, ma questa è stata una guerra contro i civili. I civili erano i nemici. E qua voglio dire, leggere quello che è successo là, in quegli anni, ci permette di leggere e capire quello che sta succedendo oggi. E' uno stato imploso, una guerra contro i civili, dove si strumentalizza qualunque cosa per mantenere al potere gruppi di potere cinici e spietati. Questo è avvenuto. Non so se qualcuno di voi ricorda chi era Arkan, la tigre di Arkan. Ma era un mafioso. Anzi, è diventato un mafioso. Perché inizialmente Arkan, non so se qualcuno ricorda, era, pensate un po', era il leader della curva, dello stadio della squadra Stella Rossa. Insomma, era Jenny Agarogna. Questo era Arkan. Jenny Agarogna. Che quello ha avuto soldi, armi e quant'altro, e via, è andato in Bosnia, si è scatenato con una furia, saccheggiando, ammazzando tutto. E, ecco qua, l'Occidente, cosa dice? Guerra di religione, gruppi etnici. Non capisce niente di quello che sta succedendo. Niente. Come non sta capendo niente di quello che sta succedendo in Medio Oriente. Vai, bombardi, fai, e poi senza un progetto politico. L'unica cosa che avevano era... E allora dividiamo... Erano arrivati, non so se ricordate, il gruppo di contatto Vance Owen avevano proposto di dividere in dieci la Bosnia. In dieci piccoli cantoni. Sapete cosa ha provocato questo? Che i signori della guerra vai per avere più possibilità. Invece di dire no, si legittimava. Una guerra, ripeto, una guerra spietata, fatta di gruppi di potere senza scrupoli, una implosione, una guerra contro i civili, sono categorie fondamentali che ci possono aiutare a capire allora e capire oggi. Bene. E ancora, ma questa guerra come si finanziava? Perché dove trovavano i soldi? Una guerra costa, tutti lo sanno che costa. Col traffico di donne, bambini, droga, armi, sigarette, qualunque cosa si traffica. Benzina, petrolio, tutto. Una guerra che ha creato e ha prodotto un qualche cosa di unico in Europa, che sono gli stati mafia. Gli stati mafia. Oggi quei paesi sono, buona parte, in parte la Bosnia lo è purtroppo, uno stato mafia. Il Kosovo è uno stato mafia, il Montenegro è uno stato mafia. E non so se vi avete notato che è proprio in quegli anni, negli anni 90, che in Italia prende avvio la Sacra Corona Unita. Era là. E vai, non so se sapete quanti ricercati a Sacra Corona Unita si andavano a rifugiare in Montenegro, in Albania li hanno arrestati là. Perché si è creato una realtà nuova, un qualche cosa di assolutamente unico, che anche questo oggi è drammatico, che appunto è l'espansione incontrollata dell'economia criminale, che non ha solo a che fare con l'America Latina e la Colombia, ha a che fare con una buona parte dell'Europa. E che è avvenuta in quell'area. E come vedete le categorie che sto usando sono completamente diverse da quelle banali, è brutto doverlo dire, ma banali e scorrette, con cui si è cercato di interpretare questa roba. E che alla fine mi ha detto, ecco, questo ci insegna che ci dobbiamo voler bene, eccetera. Ma mica si volevano male quelle persone. Infatti per secoli hanno vissuto insieme. Lo yugoslavismo non è che si era inventato Tito. Ora io non ho neanche l'ossaggia per la yugoslava di Tito. Ma insomma, quest'idea di un'unità dei Balcani non era una cosa campata in aria. Anzi, torno indietro, forse qualcuno non sa, perché viene assassinato l'arciduca a Saria. Perché lui proponeva, proprio contro l'ipotesi di una yugoslavia indipendente, di introdurre la yugoslavia come uno dei membri del regno austro-ungarico. Lo chiamava, lo proponeva, era come si chiamava il progetto Trilaterno. Non mi ricordo adesso il termine usato che usavo. Quindi era una cosa che ha una sua storia. Ebbene, allora a questo punto, come stavo dicendo, per ritornare agli anni 90, quindi questa vicenda, queste guerre, quello che è avvenuto, quello che insegna la Bosnia, è al di là di quelle semplificazioni un po' buoniste, che sento spesso dire, appunto, noi andiamo là, facciamo dialogare l'imam con i preti, eccetera. Perché se continuiamo a ragionare in questi termini, non riusciamo a capire che cosa è avvenuto. E infine le grandi organizzazioni internazionali, la comunità internazionale, poiché l'Unione Europea non sapeva proporre assolutamente nulla, ha la genialissima idea di dividere la Bosnia-Herzegovina, che attualmente, non so se sapete, è divisa in due entità, la Repubblica Serbsa e la Federazione Croato-Musulmana. Cioè uno Stato diviso in due entità, dove ci sono tre presidenti, due parlamenti, e cambiano il primo ministro ogni sei mesi. L'ingovernabilità di questo territorio, dove naturalmente, naturalmente, che cosa si sviluppa in questa cosa qui, dove chiaramente tutti i vari nazionalismi molto interessati approfittano perché è la loro legittimazione, e dove la criminalità dilaga, dove l'illegalità si diffonde, dove non c'è nessuna prospettiva di sviluppo in una cosa del genere. Ed è in questo disegno che si colloca la tragedia di Srebrenizza, che, a proposito di luogo, di memoria e dell'uso strumentale e pubblico della storia, ogni volta che bisogna giustificare un bombardamento si cita a Srebrenizza. Ma che è successo a Srebrenizza? Tutti dicono Srebrenica, ma è Srebrenizza. Che è successo a Srebrenizza? E qua arriviamo a un altro punto che diventa estremamente interessante per l'oggi e temo per il domani. Per chi non lo sapesse, la città di Srebrenizza è una città di 10.000 abitanti, piccola, ma ha la disgrazia di essere quasi al confine con la Serbia, che per 50 anni non voleva dire nulla, essendo lo stesso paese. Ma le Nazioni Unite dichiarano quel territorio zona protetta, con un atto del Consiglio di Sicurezza del 1993. Che cosa succede? Decine di migliaia di profughi musulmani si rifugiano a Srebrenizza, Srebrenizza, e dove le truppe dell'ONU, guidate dal generale francese Morillon, e ancora, come vedete, ci siamo sempre in mezzo noi occidentali, ma noi non c'entriamo niente su loro che sono barbari, dice ai musulmani, disarmatevi, dateci le armi, noi vi proteggeremo. Ingenuamente è quello che loro fanno. Ma cosa succede nel luglio del 1995? Bill Clinton convoca, come tutti voi ricorderete, Slobodan Milosevic, Franjo Tudjman e Izebegovic, cioè tre leader delle tre nazionalità, a Dayton. E gli dice, voi non uscirete da qua fino a quando non abbiamo trovato una via di uscita. E la via di uscita è spartiamoci da Bosnia. Questo va a me, questo va a te, questo va a te. Ok, a quel punto Srebrenizza finisce sotto i serbi. E a quel punto, gli ordini, le forze di interposizione, sono di non intervenire. Non intervenire. Negli stessi giorni Srebrenizza, gli aerei della Nato, stanno bombardando intorno a Sarajevo. che a Srebrenizza non intervengono, anzi, molto peggio come probabilmente qualcuno sa, consegnano le armi e i blindati ai serbi. Far fuori diecimila persone, tutti i maschi dai quattordicenni in su, non in combattimento, ma fucilati, impiccati, squartati, eccetera, eccetera. Ci vogliono settimane. Settimane. Il mondo sapeva. Allora, quando tra l'altro io sento, per evitare Srebrenizza, per evitare Srebrenizza ci vorrebbe qualcosa d'altro, uno sguardo meno cinico e meno calcolante e un'incapacità di progettualità politica, oltre che le bombe, immediatamente. Ebbene, Srebrenizza è stato questo, è stata una vergogna internazionale, una vergogna internazionale, dove il problema etnico, di nuovo, non c'entra niente, dove è stato pianificato, non il genocidio, l'eccidio, che chiaramente, probabilmente, nessuno si aspettava di tale proporzione, ma tutto è stato deciso a Dayton. Quella zona l'andava ai serbi. E' buono. Quando si è chiesto l'intervento dei soldati della Nato, guardate che sta succedendo questo. No, non si interviene. Non si interviene. E' chiaro? Questo è avvenuto. Personalmente, con una serie di profughe di Srebrenizza e altre persone insieme a me, abbiamo presentato al Tribunale dell'AIA, abbiamo richiesto l'incriminazione generale Morillon, perché a questo punto è responsabile anche lui. Lui dava ordini perché non si intervenisse. Voi sapete che, non so, c'erano soldati olandesi sul terreno, però almeno l'Olanda, il ministro degli esti si è dimesso, ha provocato le crisi di governo, ci sono state elezioni, e proprio quest'anno il governo olandese, a chesso scuso ufficialmente, ha detto che è pronto a pagare, a pagare, un indennizzo alle famiglie, eccetera, eccetera. La Francia. Ma chi è che finanzia il Tribunale dell'AIA? Inghilterra, Stati Uniti e Francia. E la Francia ha processo al suo generale, ma neanche per idea. E la cosa è finita là. Nessuno ha mai posto seriamente il problema. E qua arriviamo all'altra grande questione, che negli ultimi vent'anni ormai ci siamo abituati a sentire, a vedere, e ci sono interventi internazionali dappertutto, come peacekeeping, come costruzione di stati, come interventi umanitari, eccetera, eccetera. Bene, quella roba lì. ci dà bene l'idea di come avvengono questi processi, di quali sono le problematiche che stanno dietro. E allora, e con questo concludo, che ho già preso molto tempo, ho detto che non volevo parlare più di 20 minuti, ecco quanti quali e quanti argomenti ci sono dietro a questa storia. Quanto è attuale e quanto è necessario utilizzare nuove chiavi di lettura, che poi sono le vecchie chiavi di lettura. Noi crediamo che utilizzando pseudo-chiavi letture antropologiche che non vengono più usate dagli antropologi, gli antropologi non usano quasi più neanche il termine etnia, ma poi parliamo di guerre etniche. Nel momento in cui noi abbandoniamo una volta per tutte, tutte queste categorie, e iniziamo a guardare e analizzare i processi nel loro sviluppo storico e politico, hanno molto da dirci e ci riguarda, ci coinvolge, non è un mondo a parte, è il nostro mondo, è la nostra realtà. L'ultima cosa, all'inizio della presentazione si parla delle mine anti-uomo. Io ricordo la questione delle mine anti-uomo, prodotte in Italia, gran parte è prodotte in Italia, on passant. Ebbene, poi che cosa c'è stato? E chiaramente bisogna sminare. E inizialmente non solo l'Italia, ma molti paesi europei hanno iniziato a sminare. Io me li ricordo in Bosnia, questi che avevano con certe, sono delle strane macchine, strani robot, che vanno, e cambiano poi su questi tutti vestiti in un modo impressionante, che vanno a sminare. Ma poi, cari miei, ma poi gli interessi internazionali sono passati, i Balcani non interessano più a nessuno, e li hanno lasciati lì. Li hanno lasciati lì. Ora sono in Afghanistan, sono in Iraq, non so dove sono, e i Balcani non gliene frega più niente a nessuno. E le mine galleggiano nell'acqua. 4 milioni e mezzo di mine, si calcola, siano solo in Bosnia, inesplose, un milione in Croazia. E là bisogna, costa, ma noi i soldi non li abbiamo. E noi i soldi per fare le guerre li abbiamo, ma per sminare non li abbiamo. Si arrangino, e se si ammazzano di nuovo, è perché sono selvaggi. Noi che ci entriamo. Grazie. Dopo questi interventi così straordinari e ricchi, penso che in molti di voi siano sorti alcuni elementi di curiosità, e credo che sia corretto che i nostri relatori possano essere a vostra disposizione. Pertanto, se vi sono delle domande, penso di interpretare il pensiero dei nostri bravissimi relatori, loro sono a vostra disposizione. Prego. che qualcuno rompa il ghiaccio. Ecco, la professoressa Leccese dell'Istituto Grassi di Torino. Questo? Ok. Grazie ai relatori, naturalmente, a tutti i relatori che hanno parlato finora. noi siamo come scuola ancora molto indecisi sul tema e lo sono ancora dopo queste relazioni perché sono tutti e tre molto interessanti, decisamente. Avrei bisogno di alcune precisazioni sul tema numero due, ad esempio. Io lavoro quest'anno, l'anno scorso lavoravo con gli aeronautici, abbiamo fatto la guerra, la Bosnia e tutto, quest'anno lavoro con gli informatici e loro sono stati subito attratti dal tema numero due. Però, la prima cosa che gli è venuta in mente, io ho già formato il gruppo, è o Movimento 5 Stelle, quello di cui ha parlato lei, Democrazia Voto e tutto, oppure più che altro, Primavera e Arabe e adesso Occupy a Hong Kong perché chiaramente di questi giorni hanno scurato i siti e tutto, loro sono informatici, sono interessatissimi a questo argomento. Io vedo poca possibilità di trovare fonti, documenti e tutto, ma mi chiedo, può rientrare nell'argomento, secondo voi, questo rientra nel tema numero due, prima domanda, aspetta, seconda domanda, dove è il signor Bonapace? Buongiorno. La storia, la sua relazione è stata più che altro incentrata sulla storia della Bosnia, che ne abbiamo fatto l'anno scorso, ma io non la vedo, cioè c'è ancora una cosa che mi sfugge, cuore di un'Europa dimenticata, è dimenticata la Bosnia o è dimenticata l'Europa? È l'Europa che è dimenticata, è la Bosnia che è dimenticata dall'Europa, dall'Europa, ok, ma qui dice Bosnia, cuore di un'Europa dimenticata? Il titolo, secondo lei, è, è, ok, ma qui sembra che sia l'Europa dimenticata. No, perché leggendo meglio il resto, proprio per quello, perché abbiamo analizzato a fondo, si parla di entrambe le cose, perché si parla della storia, l'alluvione, tutto quanto dell'anno scorso, va bene, su questo ci siamo, poi però dice di nuovo il fatto che l'Europa guardi e tacci è un crimine mostruoso, nel confronto del nostro popolo, ma è anche un crack morale dell'Europa. Quindi, se poteste rispondermi, perché noi dobbiamo scegliere il tema, e quindi queste sono le due domande che pongo. Grazie, sono state molto interessanti comunque. Per quello che riguarda la traccia numero due, facciamo rispondere al dottor Maraglino, grazie. Allora, la risposta è assolutamente sì, nel senso che io ho avuto la fortuna nel 2012 di essere presente e andare a conoscere il movimento di Occupy Wall Street a New York. Quindi, secondo me, è quello un movimento interessante dal punto di vista dei mezzi utilizzati, quindi dell'uso di internet, sia dal punto di vista dell'organizzazione democratica del movimento, che era un movimento che attraversava tutte le classi sociali, se ancora si può usare questa espressione, dell'America. Dallo studente bangalese appena arrivato alla New York University fino al mega professorone della Columbia, che si ritrovavano in assemblee aperte, c'era tutto un meccanismo di cui si trovano amplissimi documenti ovunque, insomma, il libro che ho citato prima di Castells era proprio su questo. Il libro è l'autore Manuel Castells Reti di indignazione e speranza editore Università Bocconi. Quindi sì, sia dal punto di vista teorico dell'idea di democrazia che sottointendeva il movimento di Occupy Wall Street sia le modalità di funzionamento della democrazia interna del movimento. Idem, credo per le primavere arabe a maggior ragione, se me è anche interessante capire a cosa hanno portato poi quelle primavere arabe su. anche dal punto di vista di quello che stiamo leggendo sui giornali in questo periodo. Sul Movimento 5 Stelle vi segnalo che c'è stata anche una polemica che per esempio è argomentata in uno dei libri che trovate nella bibliografia che è questo di Fabio Chiusi Critica della democrazia digitale che racconta l'episodio di contrapposizione tra la piattaforma diciamo così ufficiale promossa dal blog di Grillo e una piattaforma apocrifa elaborata dal Movimento del Lazio credo della Calabria della Campania comunque sicuramente del Lazio che si chiamava Parlamento elettronico quindi anche qui vale la pena indagare le due idee che sottintendevano le due forme di democrazia che passavano nelle varie esperienze del Movimento 5 Stelle e anche lo stato a cui oggi il Movimento si trova di fronte a alcune difficoltà oggettive che emergono che emergono dal punto di vista della democrazia interna della rappresentanza del ruolo degli eletti nel Parlamento Occupy Hong Kong sì secondo me è un po' ormai Occupy è diventato un po' tutto è diventato Occupy Hong Kong però siccome il Movimento Nuovo probabilmente vale anche lì la pena indagare perché dietro mi pare di capire che c'è una richiesta di libertà di espressione di elezione diretta dei propri rappresentanti in un luogo che insomma ha tutti i problemi che conosciamo quindi se al di là dell'aspetto semantico di Occupy Hong Kong sarebbe interessante capire quali sono gli strumenti che adesso a 4 anni in distanza d'Occupy Wall Street sta utilizzando il Movimento di Questa insomma non dobbiamo restare solo in Italia questo volevo sapere siamo sicuri? credo di no insomma non è assolutamente necessario rimanere solo in Italia in particolare per la vocazione dei suoi studenti forse sì visto che hanno quel profilo di studi se posso vilmente fare pubblicità progresso proprio per la collega che lavora qua a Torino il 4 di novembre ci sarà il primo incontro di approfondimento per i suoi studenti è legato alla traccia numero 3 e per la traccia numero 2 che le interessa sarà il 18 di novembre in realtà tutte queste date verranno comunicate a ogni scuola più in là era solo per dire che se i ragazzi hanno delle perplessità che vengano e che si confrontino farà solo bene grazie grazie invece per quello che riguarda l'equivoco segnalato dalla professoressa ma io credo qua c'è scritto perché l'Europa si disinteressa questa terra ora come nel recente passato cioè qua mi sembra chiaro cioè il problema è la Bosnia è dimenticata la Bosnia è dimenticata la Bosnia è dimenticata certo certo è dimenticata dall'Euro è dimenticata certo sì sì in effetti è questo perché sono stato presente al momento della discussione di coloro che hanno poi materialmente steso la traccia e nelle loro intenzioni vi era proprio questo questa sottolineatura cioè che di Bosnia si parla poco e spesso l'Europa ha dimenticato queste immani tragedie ancora nel recente passato alcune notizie anche nei mass media ad esempio l'alluvione recentissima di cui si è stato fatto accendo prima nei nostri mezzi di comunicazione sostanzialmente non apparsa per questo credo che sia corretta la interpretazione che il professore ha dato professore sa posso solo spegnere il microfono per favore la ringrazio altre domande siete certi abbiamo ancora alcuni minuti a disposizione quindi vi sarebbe un tempo sufficiente per approfittare della presenza dei nostri relatori sono stati così esaustivi bene se non vi sono altre domande mi piace ricordare che la scadenza o cuore di ricordare che la scadenza del concorso per l'iscrizione è fissata per il 15 di ottobre noi siamo particolarmente grati a voi per essere qui oggi con tutto quello che questo comporta soprattutto per chi viene da fuori Torino ma ci così raccomandiamo a che voi possiate farvi moltiplicatore di questa iniziativa perché molti vostri colleghi anche chi non è qui oggi possa aderire al concorso e soprattutto perché voi possiate far lavorare il numero più grande possibile di studenti perché ci rendiamo conto che questa è una modalità importante per far sì che i nostri studenti possano avvicinarsi a questi temi desidero quindi ringraziarvi per la vostra presenza così come desidero davvero ringraziare di cuore i partecipanti a titolo gratuito a questa tavola ai nostri relatori partendo dal nostro collega il dottor Fabio Maragnino che credo credo davvero ci abbia offerto un approfondimento assolutamente interessante peraltro Fabio io credo che tu possa essere eventualmente disponibile anche per quei gruppi classe che intendessero così approfondire la questione della democrazia digitale potrebbe essere un bel esperimento che i nostri colleghi vadano nelle scuole laddove evidentemente voi lo richiediate a sviluppare questi temi prego professoressa noi siamo consiglio regionale del Piemonte dovremmo cercare di organizzarci per raggiungere le scuole le più lontane possibili anche perché noi non siamo la provincia di Torino viste le mie origini pugliesi se mi chiedeste andare in Puglia sarei più contento però diciamo che per il Piemonte va benissimo e così ringraziamo il professor Marchis che collabora al comitato resistenza e costituzione davvero con passione il professore che viene dall'università della Valle d'Aosta ma è docente è presso quella università ma è dell'istituto storico di Alessandria è così? sì non proprio comunque noi le siamo grati per la sua partecipazione così come siamo grati al professor Pagano dell'istituto storico di Vercelli per avere affrontato in termini così scientifici e rigorosi il tema della memoria se davvero non vi sono altri chiarimenti altre richieste di approfondimento io chiuderei qui davvero contando non solo sulla vostra partecipazione ma sulla partecipazione dei vostri colleghi riceverete probabilmente indicazione delle date della formazione organizzata dagli istituti storici che sono delle nostre antenne sul territorio dell'intera regione accanto a questo cercheremo ma questo è ancora di là da da venire siamo ancora nell'ambito delle ipotesi cercheremo di garantire una nostra presenza nelle scuole per tenere delle conferenze nelle scuole laddove ce lo chiedeste grazie arrivederci grazie a tutti 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 grazie a tutti